Con Melvin ne parliamo dell'altro progetto realizzato all'interno dell'Istituto ITIS Divini di San Severino Marche che è il programma Comfort Emeter. Sì, io ho partecipato al progetto Classi Virtuale, è un progetto che viene realizzato grazie alla collaborazione dell'ITIS Divini e il gruppo Loccioni. Il gruppo Loccioni è una grande impresa che si occupa di strumentazione e di controllo per altre aziende ma anche di progettazione hardware e software. Il progetto che ho conseguito è chiamato Classi Virtuale e consiste in uno stage di tre settimane presso la sede principale di gruppo Loccioni che si trova a Angeli di Rosora vicino a Iesi. Hanno partecipato a questo progetto quattro ITIS nelle Marche, quello di Ancona, quello di Fabriano, quello di San Severino e quello di Iesi. Eravamo 28 ragazzi e siamo riusciti a realizzare il primo misuratore di Comfort che è il Comfort Emeter. Il Comfort Emeter tiene conto di quattro parametri, la CO2, la temperatura, la luminosità e il rumore. In base a questi quattro parametri tiene conto delle condizioni climatiche e ci indica il comfort all'interno di una classe, all'interno di una stanza o di una classe che noi abbiamo fatto per le scuole. Attraverso anche un programma software siamo riusciti a gestire il Comfort Emeter e a settare i parametri in base alle nostre efficienze. Possiamo cambiare la temperatura, il livello di CO2, il livello di rumore e tutti gli altri parametri che sono all'interno. Come potete vedere abbiamo costruito, questo è quello fatto apposta solo per noi dell'ITIS, ma siamo riusciti a costruire ben quattro diversi comfort meter, ognuno per ogni scuola e ognuno con un design diverso. Uno che è per la scuola di Iesi che è a forma di radio, un altro è a forma di lavatrice, un altro è a forma di radice quadrata e l'ultimo fatto apposta per la Loccioni che ha un design tutto particolare con lo stemma del gruppo. Come potete vedere in questa stanza abbiamo un livello di CO2 troppo elevato e una temperatura troppo elevata in base a quello che abbiamo settato dal programma software. Abbiamo costruito tutto in circa 3-4 settimane e alla fine di questo progetto abbiamo fatto un grande evento in cui hanno partecipato tutti i rappresentanti e i presidi delle scuole e abbiamo presentato il progetto anche a numerosi concorsi.